partita fondamentale quella che si gioca al centro universitario sportivo di palermo di fronte il cus palermo di mister stefano colombo e il marineo guidato da angelo tomasello dopo alcune vicissitudini societari la squadra è tornata anche a vincere sul campo la gara si gioca sotto a un cielo che minaccia pioggia con il primo tentativo dopo tre giri di lancette un calcio di punizione per la formazione ospite sul pallone si porta neanche a dirlo ciccio maggio con la sua proverbiale rincorsa la conclusione di destro che si spegne però sul fondo settimo minuto con ancora il marineo che attacca sulla fascia di destra con la palla che da leone arriva nel cuore dell'area di rigore arriva saniong che calcia col destro impegna carnevale subito si apre un duello che durerà per tutta la partita insiste la squadra in tenuta nera con il pallone che arriva ancora in era di rigore verso saniong ancora una volta carnevale si oppone e nega il gol del vantaggio alla squadra ospite che attacca a testa bassa ancora sul versante di destra questa volta con mondino accelera l'ex della don carlo misimeri che poi prova a stringere col sinistro sul primo palo pallone sul fondo primo attacco da parte del cus subito pericoloso perché c'è un calcio di rigore tocco di mano abbastanza maldestro da parte di maggio tiro dei 11 metri per il cus palermo dal dischetto va a lioto la concentrazione del centrocampista che si fa neutralizzare il pallone dal specialista dei tiri dei 11 metri ovvero sia la min si sei e allora come dice la più crudele legge del calcio gol sbagliato gol subito cross da sinistra e gol da parte di sainei saniong che con la zampata anticipa i difensori batte l'estremo difensore carnevale e porta in vantaggio meritatamente l'oratorio marineo minuto numero 20 si sblocca la gara del cus palermo che attacca adesso con la formazione di casa con cubi che mette al centro il pallone colpo di testa sopra la traversa c'è stata una divisione calcio d'angolo ma insiste ancora il cus al minuto 28 con questa giocata per die centrali lo scambio che favorisce sheriff la parata sul primo palo ancora attento si sei poi veniamo ancora alla chiusura del primo tempo senza particolari emozioni questi ultimi minuti e la prima frazione si va negli spogliatoi con il marineo in vantaggio per una rete a zero e subito la squadra ospite che deve difendersi da questa conclusione di fofanena vede ripresa al tredicesimo la parata in due tempi da parte di la min si sei poi in minuto 65 ancora un calcio di punizione per la squadra di tomasello va ancora una volta ciccio maggio sul punto di battuta i soliti passettini la palla che scende questa volta troppo tardi rispetto alle speranze del capitano del marineo marineo che poi va in contropiede minuto 67 l'avanzata poi il tocco ancora per sainei san jong il gol del 2 a 0 da parte dell'oratorio marineo che raddoppia metà ripresa gol pesantissimo nell'economia della partita che spezza le gambe non cus che però ci proverà fino alla fine minuto 82 qui prova a respingere la difesa del marineo poi c'è questa sponda per fofanà conclusione potentissima che però si perde sopra la traversa poi al minuto 87 ancora i padroni di casa che ci provano con il marineo che ormai tutto proteso all'indietro ancora una giocata con la conclusione di mancina da parte di scozzari sfiora la traversa il giovane dell'ecus palermo che poi continua ad attaccare con la palla che viene respinta poi riesce ad arrivare nuccio ma tocca malissimo da pochi passi potrebbe essere il gol che riapriva la partita invece è sostanzo la rete che chiude le ostilità 0 2 vince l'oratorio marineo seconda vittoria consecutiva per gli ospiti da sportisire è tutto alla prossima